Cosa vorresti fare da grande? La poliziatta Perché mi piace aiutare le persone E arrestare le persone E arrestare le persone? Quelle cattive? Sì Vorrei pure fare il detective Perché voglio risolvere i misteri Vuoi risolvere i misteri? Tipo? Tipo che ne so Una persona è stata rubata È stata rapita? Sì O qualcosa è stato rubato? Sì Quindi vuoi una vita un po' avventurosa? Sì Sì